Dopo le consegne già effettuate nei giorni scorsi, la Regione ha distribuito altre 226.000 mascherine alle tre aziende sanitarie della Toscana. Nel pieno dell'emergenza per l'epidemia del virus Covid-19, con il numero dei contagiati e dei deceduti in continuo aumento, il Presidente della Regione Enrico Rosse ha presenziato alla consegna negli ospedali di Santa Maria Nuova e Careggia, Firenze, fornendo i dati della fornitura odierna. 50.000 mascherine certificate Comunità Europea, 160.000 mascherine in TNT autoprodotte in Toscana e 16.680 con filtro FFP2. Noi vogliamo controllare la distribuzione, vogliamo che avvenga in modo trasparente, quindi tre, la Saccardi andrà a sud e poi un'altra persona è la nord-ovest, consegnerà con verbale queste mascherine ripartite tra le diverse aziende della Toscana. I direttori generali consegneranno con verbale ai responsabili di presidio queste mascherine e a loro volta i responsabili di diversi presidi rendi conteranno la distribuzione di queste mascherine nelle diverse unità operative. E adesso vediamo che succede, noi pensiamo che questo sia un numero sufficiente per dare un periodo di sicurezza importante. Il Presidente Rossi ha rivolto un appello anche alle aziende toscane che usano mascherine nel loro ciclo produttivo e che adesso sono chiuse di prestare le loro scorte al Servizio Sanitario Nazionale. La Regione provvederà poi a restituire quanto dovuto.